Quando qualcuno ti lascia, quando una storia finisce, ti sembra di aver perso qualcosa, probabilmente provi un senso di vuoto dentro, cominci a pensare che sia un problema tuo, che non ci potrà mai essere un'altra persona, situazione che possa riempire quel vuoto allo stesso modo e provi quindi un senso di solitudine che ti sembra che vivrai per sempre. Sai che c'è? Che una persona che se ne va volutamente dalla tua vita non lascia un vuoto, lascia uno spazio. Puoi scegliere se pensare a un vuoto che ti crea solitudine o ad uno spazio che invece è pronto ad accogliere tutto quello che di bello può arrivare adesso nella tua vita. Anche in questo caso, come vedi, può essere semplicemente questione di parole, comincia a parlarti in modo più sano. Ciao e alla prossima!